Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video e dunque la Juve Under-19 c'è, lancio un messaggio alle prime della classe questa squadra non molla, questa squadra è un'ottima squadra, ha una partita da recuperare, in questo momento ancora quarta ma con la partita da recuperare potrebbe guadagnare una posizione in classifica e attaccarsi alla coppia di testa sempre considerando, sempre dando per scontato che oggi la Samp vincal derby, cosa che non è assolutamente scontata devo dire una bella partita, Milan-Juve che è stata veramente una gran bella partita con la Juve che porta a casa tre punti d'oro, grazie alla rete in apertura di D'Agracca su una palla meravigliosa di Sule e poi c'è da dire che la Juve ha sprecato tanto, ha avuto delle occasioni davvero colossali così come le occasioni le ha avute in Milan, per quello credo che questa sia una vittoria pesantissima in chiave campionato e veramente ci sono stati alcuni giocatori che oggi mi hanno impressionato per lo stato di forma perché ad esempio Miretti è un giocatore che secondo me è già pronto per star fisso in under 23 ma oggi non mi ha impressionato, come non mi ha impressionato Barrenicea che sono due giocatori veramente forti e non è a caso, infatti già giocano stabilmente quasi con l'under 23 oggi è stato impressionante D'Agracca, D'Agracca ha fatto gol, che attenzione si è mangiato un paio di gol se ne è mangiati, ma è impressionante la qualità del giocatore, c'è un giocatore che tira su l'azione, parte in contropiede insomma un giocatore davvero strepitoso e mi ha impressionato molto in Tenda, oggi in Tenda non ha sbagliato niente sia in fase difensiva che in fase offensiva, veramente un giocatore importantissimo un terzino veramente forte, forte, forte e poi però secondo me oggi ho la palma del migliore in campo la do a Garofali, portiere che ogni tanto magari qualche errore lo può fare perché comunque ha 19 anni ma ha un talento strepitoso oggi ha fatto una parata sul rimpallo che è favolosa, una parata pazzesca portiere davvero interessante, un portiere su cui la Juve può veramente costruire qualcosa di importante anche perché essendo CTP insomma sappiamo quanto questo vuol dire voglia dire quanto sia importante per la Juve devo dire è partita veramente molto aperta perché la Juve è passata subito in vantaggio il Milan i primi minuti, la prima frazione secondo me la Juve l'ha giocata veramente bene il Milan è venuto fuori gli ultimi 10 minuti del primo tempo e poi ha giocato alla pari tutto il secondo dove la Juve spesso attaccava in contropiede e attaccava bene in contropiede sprecando occasioni importanti il segnale è stato bello quello che ha dato poi a un certo punto mister Bonatti quando ha tolto Miretti e Sule per mettere due attaccanti come Bonetti e Cerri insieme ad Agraca insomma per sfruttare i contropiedi veloci non siamo riusciti ad avere palloni buoni anche perché gli altri giocatori tra cui Secu Love e Cetra erano veramente a quel punto lì sulle gambe perché è stata una partita davvero stancante davvero stressante e quindi assolutamente aggiungo io che questa partita qua ci arriva in un momento dove ci sono tante partite i giocatori sono stanchi proprio non solo la Juve ovviamente ma in tutte le squadre un campionato che adesso d'ora in poi porterà via tante energie a tanti e la Juve secondo me è vantaggiata proprio nella quantità dei giocatori cioè se la Juve si qualifica il playoff con tutta l'Under 23 tanti giocatori dell'Under 23 che potrebbero giocare questi playoff più quelli che è nella primavera e quelli che è nell'Under 17 secondo me la Juve avrebbe gestendo bene l'energia potrebbe far veramente bene e quindi niente ragazzi una vittoria pesantissima una vittoria come ho detto prima che catapulta la Juve sempre più su dà un segnale evidentissimo veramente pesante alle inseguitrici e anche a chi sta davanti la Juve c'è la Juve non molla e questa era una partita veramente complicata Milan l'ha giocata bene il Milan ha dimostrato di essere una buona squadra ma questa Juve oggi oggi è stata imperforabile dietro grazie a Garofani letale davanti grazie a D'Agraca e ripeto D'Agraca oggi ho sbagliato tanto a me oggi la Juve è veramente piaciuta anche se abbiamo concesso un po' troppo al Milan però c'è anche i meriti del Milan cioè nel calcio si gioca assolutamente in due e quindi assolutamente per me è stata una buona prova ora ragazzi ovviamente domani ci sarà il post il post prima squadra Juve Genoa il post under 23 anche Juve gioca col Ponte Dere sarà una partita importante non credo che qualche giocatore che ha giocato oggi giocherà domani col Ponte Dera anche perché li ho visti uscire veramente sulle gambe quindi sarà credo la domenica di riposo per questi ragazzi dell'under 19 dunque io chiudo col video Juventus Milan primavera termina 1-0 per la Juve con la rete di D'Agraca a me non resta che salutarvi da un appuntamento ai prossimi video del canale ciao a tutti